Anche quest'anno torna alla Rocca di Serravalle la 17esima edizione di CGL Incontri che si svolgerà dal 20 al 30 giugno. Tanti nomi importanti che si alterneranno sul palco, tra i quali tre segretari generali di CGL, CISL e UIL, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, la ministra all'integrazione CISL Chienge e la ministra alle pari opportunità Josefa Idem. I temi principali di questa edizione saranno lavoro e democrazia, come ci spiega la segretaria generale CGL Pistoia, Jessica Beneforti. Lavoro e democrazia è il titolo che abbiamo scelto per la nostra 17esima edizione perché pensiamo che dopo anni di dilagante ideologia della flessibilità, della regolazione, della contrazione dei diritti, aumento delle disuguaglianze, delle povertà, il Paese martoriato dalla crisi abbia la necessità di ritrovare una strada, una direttrice che rimetta al centro il lavoro, che consenta di recuperare valore economico e sociale al lavoro. Ecco perché abbiamo scelto di legare insieme lavoro e democrazia. È con grande orgoglio che ospitiamo nella apertura della nostra manifestazione i tre segretari generali di CGL e CISL perché crediamo che dopo la firma dell'accordo sulla rappresentanza si possa proseguire un terreno di unità d'azione dalle regole alle azioni appunto per contribuire attraverso la contrattazione, il confronto, la mobilitazione a disegnare un futuro migliore per il nostro Paese che abbia davvero e ritrovi davvero il senso dell'articolo 1 della nostra carta costituzionale. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e il lavoro ha bisogno di vedere restituito la sua centralità e il suo valore.